Buongiorno e benvenuti a Distretto ed Intorni, una rubrica del Distretto del Commercio Alta Valle Siriana Clusone. Io sono Michele Lazzaretti, presidente del Distretto del Commercio e sono onorato di potervi presentare questa seconda, questa nuova edizione di questa rubrica, una rubrica in cui parleremo di temi che ci stanno particolarmente a cuore legati a impresa, commercio e anche turismo, soprattutto per potenziare e rafforzare il valore del nostro territorio. Ecco, vi presento subito il nostro coprotagonista per questa rubrica di oggi, per questa prima puntata, Andrea Maglio, imprenditore clusonese di A2 Lab e Level Up. Ciao Michele, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Allora, in questa rubrica noi affronteremo quei temi, come vi dicevo, che sono molto importanti, che stiamo affrontando su vari tavoli nel distretto. In particolare, oggi parleremo di innovazione, di servizi al lavoro e all'impresa. È anche un'occasione per far conoscere delle realtà che sono dietro l'angolo, dietro la porta di casa, ma non sappiamo che esistano. Ecco, iniziamo quindi a dire un po', Level Up. Che cosa fate? Allora, Level Up innanzitutto è uno spazio di co-working, per il termine del lato della cosa. Offriamo servizi per i professionisti, dal singolo professionista freelance fino alla piccola azienda. I servizi che offriamo sono dalla postazione singola, quindi la postazione di lavoro per i freelance, fino agli uffici privati o condivisi, per poi arrivare all'utilizzo degli spazi comuni, quali sono le sale riunioni per incontrare i clienti, organizzare piccoli eventi aziendali, quindi tutto quello che gira intorno proprio al puro co-working, diciamo. E com'è nata la vostra impresa? Mi dicevi che siete freschi comunque di media apertura. Sì, abbiamo aperto praticamente post-primo lockdown, anche se il progetto parte da lontano e nasce più o meno nella mia testa qualche anno fa, più o meno nel 2015, quando avevo appunto deciso di licenziarmi e aprire la mia partita even proprio come freelance, come grafico pubblicitario. E proprio nei primi mesi di attività mi sono reso conto di come lavorare da solo, senza mai avere un confronto con altre persone, lavorare magari uno spazio che poi vedeva essere il soggiorno di casa o uno spazio non vero d'ufficio, poteva essere limitante perché senza confronto con altre persone, senza la possibilità di vedere gente, scambiare opinioni e così, poteva essere limitante. Quindi ho sempre avuto un po' questo pallino del co-working e anche a Due Lab, che poi è la mia attività principale, nasce un po' da questa idea di collaborare e condividere lavoro e spazi con altri professionisti, diciamo. A Due Lab che è? A Due Lab è un'agenzia di comunicazione di circa 10 collaboratori e ci occupiamo appunto di comunicazione per le aziende. Ok, ok. Quindi siete nati proprio un po' in periodo un po' sfigato. Ma la pandemia come l'avete vissuta? Azienda nuova, servizio nuovo? Però, vabbè. Allora, la pandemia secondo me, come in tutte le cose, sta un po' rivoluzionando il mondo del lavoro, quindi ha portato sicuramente dei contro, ma preferisco vedere un po' i lati positivi. Di contro sicuramente il fatto che il co-working di per sé è un posto di aggregazione e in questo periodo l'aggregazione tra le persone ovviamente è un pochino limitata. I lati positivi sono sicuramente il fatto che concetti come il co-working, lo smart working, il lavoro flessibile, sono diventati di colpo subito molto, temi molto attuali, cosa che pre-pandemia invece erano temi ancora un po' forse lontani, diciamo. Quindi vedo i lati positivi. Co-working per chi fosse pre-pandemia, cosa si intende? Co-working è proprio la condivisione banalmente dello spazio di lavoro, quindi non limitarsi ad avere il proprio ufficio in cui ho solo i miei spazi privati, diciamo, ma avere il proprio spazio di lavoro privato, ma condividere spazi comuni come la sala riunioni, la sala caffè, l'area relax, tutto quello che sta fuori dal puro operativo, diciamo. E come vede il territorio un po' questa vostra proposta? Cioè è piaciuta? Allora, l'impatto è stato buono, nel senso che comunque chi ha avuto tempo e voglia di passare a trovarci per un caffè o di informarsi su quello che era l'iniziativa Level Up, ci ha dato sicuramente un riscontro positivo, sia per come è stato progettato lo spazio, sia per come abbiamo un po' concepito l'idea, che nasceva come l'idea di fare una sorta di piccolo campus, quindi un ufficio, sì, però con anche un sacco di spazi che ti permettessero poi di lavorare meglio, quindi avere gli spazi per poter pranzare banalmente, di poter bere il caffè, di poterti confrontare con i collaboratori o vedere i clienti. Quindi sto visto molto bene da quel punto di vista qua. Sicuramente la mentalità in generale, soprattutto nella nostra, di valle è ancora magari un po' chiusa rispetto a queste formule nuove, però pian pianino si sta un po' smuovendo e ci arriveremo. Ma infatti devo dirti, ci ho messo un po' a capire esattamente che cosa presentavate, però visitando poi anche lo spazio così, devo dire davvero è un bello, fa proprio venire in mente un po' quegli uffici che vedi nei telefilm americani, quegli open space, quelle altalene, è davvero una cosa diversa, devo dire mi ha proprio colpito. Faccio altro lavoro, quindi non mi serve, però altrimenti sarebbe interessante. Ma concretamente c'è stata, adesso non voglio chiederti i numeri perché è poco fine, però dico c'è stato interesse, che ne so, dagli cittadini di Clusone, nostre zone, magari invece qualcuno di Bergamo ha detto, preferisco. Allora c'è stata sicuramente richiesta, e la cosa che mi ha sorpreso è che c'è stata sia richiesta locale, come ovviamente immaginavo, ma c'è stata anche richiesta di professionisti e persone, per assurdo, che vengono da più lontano, il fatto che tante aziende permettano ai propri dipendenti di lavorare magari in smart working, ha permesso anche magari a chi viveva a Milano, che era obbligato a stare in città per lavoro, magari invece di spostarsi a vivere magari qua nel nostro territorio e di poter lavorare comunque in maniera operativa al 100%, con queste nuove formule flessibili, e quindi lo vedo proprio come un po' un plus anche per il territorio, il fatto di poter, a posto che dover sempre, diciamo, immigrare verso la città o addirittura verso l'estero, per avere opportunità, il fatto di fare un po' il processo al contrario e quindi di far tornare gente nei nostri territori e di valorizzarli, secondo me. Ma infatti questo è uno dei punti che ci hanno un po' spinto a invitarti, proprio questo servizio proposto, la possibilità di rendere il nostro territorio accattivante, attraente, anche per chi magari lo viveva sempre solo come da turista, ma magari invece il professionista di Milano scopre che può invece che avere il suo ufficio in Milano, magari con le scomodità, le comodità di Milano ci mancherebbe, però magari ha più piacere di poter finire l'orario lavorativo e trovarsi già in villeggiatura dal punto di vista del milanese. Avete avuto casi del genere, qualche, per esempio, Milano piuttosto che ci sono… Sì, sì, abbiamo avuto professionisti appunto di Milano, di Bergamo, addirittura un paio di persone che vivevano all'estero per scelte di vita o per lavoro e che dovendo magari rientrare in valle o nel nostro territorio per motivi familiari o di lavoro e al posto poi che doversi diciamo fermare a lavorare da casa in cui magari non c'era la connessione, non avevano lo spazio, sono venuti in level up anche magari per pochi giorni o per una giornata singola o per poche ore, però si sono appoggiati al nostro spazio per poter lavorare al 100% senza perdere nulla di lavoro, ma avendo la possibilità poi fuori dal contesto lavorativo di essere in un territorio comunque in cui la qualità della vita è buona e si sta bene insomma. Infatti uno dei temi che approfondiremo poi nei prossimi appuntamenti sarà proprio quello della qualità della vita sul nostro territorio, dal tema delle famiglie al tema delle piste ciclabili comunque, della valorizzazione dell'ambiente e del verde. Ecco, non l'ho detto prima, la struttura in cui è fatta questa rubrica vede un amministratore o comunque rappresentante degli amministratori e una figura del territorio che mostra un esempio concreto di come si mette in pratica quello che il territorio vorrebbe, in questo caso appunto l'innovazione e la possibilità di creare un qualcosa che sia accattivante. Penso che dare la possibilità a chi vive in città di venire a lavorare sul nostro territorio sia un cambiamento davvero di punto di vista incredibile e può essere davvero quello che può far cambiare un po' l'andazzo che vede la montagna svuotarsi a vantaggio della montagna, a vantaggio della città. Ecco, come potrebbe in questa situazione, leggendola appunto nell'ottica di non lavoriamo solo come, per farti fare più soldi a te, però di come arricchimento per tutto il territorio, cosa potrebbero fare le amministrazioni in quest'ottica, nell'ottica dei servizi alle imprese? Ok, sicuramente supportare un po' questi tipi di iniziative, nel senso che comunque hanno un risvolto, seppur iniziative private, hanno un risvolto, come dicevamo adesso, sociale da un punto di vista anche banalmente di imprenditoria giovanile, perché avere spazi come questo o altri tipi di servizi come questi, secondo me possono aiutare tanto chi ha voglia di lanciarsi, di mettersi in proprio, di aprire una propria attività, cosa che sicuramente in città già da tempo si può avere maggiormente, quindi sicuramente un po' più di attenzione a questi servizi, a queste nuove formule possono portare a incentivare il territorio, incentivare i giovani, incentivare i giovani imprenditori che vogliono appunto un po' avviarsi e lanciarsi e non dover per forza spostarsi come... Certo, voi siete un gruppo di giovani comunque come... Sì, ci riteniamo abbastanza giovani. Sì, è vero, anche io una volta ero giovane, sì hai ragione, sì è vero, siete sui 30. Sì, in media 30 anni, 25-35. Siamo giovanissimi, ok, va bene, sì, si dimentico anche io di un tanto l'età, è vero, sì, sì. Ci riteniamo ancora giovani, dai. Allora, sei partito con un'agenzia, quindi a due lab, che era un'agenzia a gradi, come dici, comunicazione, di comunicazione, sei passato a level up, prossimo passo? Allora, sicuramente quello di potenziare ulteriormente a level up, nel senso che ad oggi la pandemia purtroppo, non più che giustamente, purtroppo ci ha limitato un po' nel progetto iniziale, sia da un punto di vista proprio di potenziamento dello spazio, per dare ancora più servizi a chi ci vuole venire a lavorare o a vivere lo spazio, ma soprattutto per quello che riguarda un po' tutto il filone delle iniziative che volevamo fare in level up e che faremo, che sono iniziative eventi come la formazione per le aziende, formazione per i privati, attività anche culturali, extra lavoro, in modo che comunque diventi un piccolo polo per la crescita personale, culturale, dei professionisti, delle persone e un modo per davvero creare network, che secondo me è il vero, la cosa su cui credo di più, che è un po' la chiave per far crescere le attività, per far crescere i professionisti, per far crescere il territorio. Tante volte ci si limita un po' alla mentalità vecchia magari del ho il mio articello, ho il mio lavoro e quindi tutto quello che c'è fuori è concorrenza. secondo me invece guardando verso il futuro si andrà sempre di più verso lo stringere alleanze, stringere sinergie lavorative, collaborazioni, perché poi ognuno è bravo magari a fare una cosa, ma si rende conto confrontandosi con un altro professionista anche del suo settore che può avere un plus collaborando con altre persone. Concretamente parlando nell'esperienza che hai fatto per ora di Level Up, perché io immagino quello che deve decidere di condividere il proprio spazio di coworking, immagino che avrebbe dei fastidi, mi tocca dividere la stampante, è davvero così o queste sono davvero le criticità? Ti dirò, effettivamente è stato una delle cose che ogni tanto quando presento il progetto a professionisti più o meno giovani c'è sempre un po' questo primo approccio nel vedere questi limiti, che poi non sono dei limiti, come barriera più che come dei plus, nel senso che vedo spesso che magari il professionista mi dice ok ho il mio spazio anche privato per lavorare, però cavoli devo andare a bere il caffè, incontro qualcun altro, la sala riunioni magari devo prenotarla perché giustamente è condivisa e quindi io cerco sempre di spiegare che questi devono essere visti come dei plus e non degli svantaggi, perché il fatto appunto di poter vedere altra gente magari banalmente anche durante la pausa pranzo, al caffè, così ti dà modo uno sicuramente di conoscere altre persone, conoscere altre attività e realtà lavorative e per la mia esperienza ti dico in questo in questi mesi, ma anche come a due lab nella mia esperienza lavorativa, il fatto di conoscere altre realtà lavorative ha solo portato sempre dei frutti perché nascevano dei clienti in comune e delle collaborazioni, più che degli svantaggi nel farsi magari concorrenza, come a volte viene visto un po' questo tipo di concetto, quindi se si sdogana un po' questo concetto qua, secondo me poi sono più i vantaggi che gli effetti negativi. Dico per esperienza personale, è interessante, sì. Quindi qual è il target ideale che avete in mente voi come usufruitore del vostro servizio? Sicuramente il target diciamo più grosso sui professionisti perché chi lavora da solo o attività che hanno poche persone, quindi due, tre, fino a sette, otto persone, secondo me sono il target migliore per questo tipo di iniziativa perché puoi partire appunto dalla postazione fino al piccolo ufficio privato che gestisci come tu, come tu aziendali. Attività più grandi magari le vedo più legate a un discorso di iniziative, quindi magari fare della formazione aziendale, partecipare agli eventi, in quell'ottica lì diciamo. Sì, sì, no, ti lo facevo ripetere perché secondo me davvero, ripeto, non è uno spot a Andrea Maglio, a due lab e level up che davvero sono contento che sei qua oggi, ma è, secondo me è quel valore aggiunto che si può cogliere per tutto il territorio, davvero riuscire a tenere menti, riuscire a tenere occasioni lavorative sul nostro territorio è quello su cui cerchiamo davvero di lavorare come distretto, banalmente l'imprenditore che lavora a Clusone e non deve andare a Milano farà la spesa a Clusone, andrà in palestra a Clusone e frequenterà i bar e i locali di Clusone, avrà magari anche tempo per volontariato, attività sul nostro territorio. Quindi è questo il senso che diamo a questo incontro, cioè il mostrare come iniziative come questa che ci permettono di scoprire nuove occasioni di lavoro, non sono funzionali solo alla persona che propone il servizio o a chi lo utilizza, ma può essere davvero qualcosa che può fare da volano poi a tutto il nostro territorio. Assolutamente. Ecco, grazie, grazie davvero di questo intervento, il tempo adesso è finito, di nuovo un grazie ad Andrea, un grazie per aver partecipato e ci vediamo nelle prossime rubriche con altri temi e altre professionalità del nostro territorio che vi spiegheranno quello che esiste sul nostro territorio e cui tutti possono accedere. Grazie a tutti.